buonasera a tutti ciao a tutti gli amici volevo fare presente una piccola divergenza con facebook per un semplice motivo io ho pubblicato un brano di mia composizione tra l'altro il brano è praticamente appartiene alla colonna sonora di ricordi di famiglia realizzato da luca costale e andrea lavalle di domodossola ora questo brano l'ho composto io e facebook ha pensato bene di contestarmi il brano per il semplice motivo che potrebbe essere di qualcun altro non è la prima volta che succede io generalmente se pubblico qualcosa di qualcun altro come è avvenuto per quanto riguarda stanford i brani che ho utilizzato ultimamente ho chiesto il permesso e gentilmente mi ha risposto adducendo al fatto dice basta che non li utilizzi a scopo di lucro puoi farne quello che vuoi ora qua si tratta di un brano mio e mi venite a rompere i coglioni di voi di facebook mi venite a rompere i coglioni per il semplice motivo che si presumo che sia di qualcun altro adesso lo ripubblico il brano se intendete promuovere nuovamente questo tipo di argomento ecco andate un po a fare in culo perché avete rotto le palle ok grazie e buona serata a tutti e buon ascolto buonasera ciao 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 ciao